Questa partita inizia dal finale quando Valenta riesce ad andare via servito da Bolgan fermato in un primo momento da Zannier e poi sigla il tapin vincente che vale una preziosa vittoria su un campo difficile come quello di Fiume Veneto-Bannia per il Chions che può esultare sempre più capolista dell'eccellenza. Vince anche gare così di misura con il suo bomber la sfida era iniziata con la conclusione del Fiume Veneto-Bannia fuori poi sempre Valenta che con il destro riesce ad aprire per Deanna rientra sul sinistro calcia Murato Spadera cross sul secondo palo non ci arriva suo compagno porta palla il Chiosma viene fermato da un ottimo intervento a metà campo e allora Sellan prova a far male va via in dribbling con il sinistro mette i brividi a Tosoni anche il Fiume Veneto-Bannia sa rendersi pericoloso poi il solito Valenta con i suoi dribbling impegna Zannier alla respinta Spadera ruba palla Deanna cerca di andare via poi l'intervento di Greatti secondo l'arbitro è calcio di rigore può sbloccarla Valenta ma anche il giocatore più forte dell'eccellenza sbaglia e viene fermato dalla traversa ci prova da fuori Musumeci molto bene Zannier intuffo disinnescare la conclusione altro a fondo sulla sinistra il cross di Borgobello per Jukic pallone fuori nella ripresa Baratin riesce a mettere in moto Di Lazzaro va con il destro non inquadra la porta è una partita dove non mancano le emozioni ancora ancora Fiume Veneto-Bannia guardate quanto va vicino al gol su questa deviazione Sellan dopo la conclusione di Dassier e allora ancora Chions a cercare la rete che non arriva con l'ex Deanna fino all'episodio decisivo al 93esimo quando Valenta sigla al suo 17esimo gol in campionato e poi ultimissima azione bella parata di Zannier su Deanna da rivedere finisce 1 a 0 per il Chions